Oggi vi spiego, vi racconto, come eseguire un buon allenamento a corpo libero. Per il nostro benessere non c'è un segretto particolare, una sana e corretta alimentazione e un allenamento adeguato. Siamo a 5, siamo a metà. 1, 2, 3. È importante tenere sempre lo stesso ritmo. I tempi sono abbastanza soggettivi, però cercate di arrivare non vicino allo sfinimento, però quando siete molto stanchi. Sono Yuri Keki e questo è il mio corso per competenze.